Ci troviamo nei locali di Banca Popolare di Milano che ospitano il Customer Center. È una struttura nata a fine 2014 ed ospita l'area che si occupa di mantenere il contatto con la nostra clientela. In questa struttura i colleghi non hanno un contatto fisico con il cliente, ma hanno un contatto telefonico via web. Il progetto si inserisce in un percorso aziendale che abbiamo chiamato Workplace Strategy, quindi la definizione di come sviluppare i posti di lavoro per i nostri dipendenti. Questo ha visto una fase di analisi molto approfondita, che è passata da un'osservazione precisa di come utilizziamo oggi i spazi di lavoro a un'intervista a tutti i livelli dell'azienda, a partire dal coinvolgimento dei vertici, quindi dal consiglio di gestione, presidente e prima linea aziendale, a un coinvolgimento molto forte dei dipendenti tramite questionario online e focus group. I risultati di queste analisi ci hanno permesso di identificare le nuove necessità e quindi di realizzare questo progetto che è diventato il prototipo di un modo di lavorare e di sviluppare spazi di lavoro che andremo a ulteriormente implementare. Per me e per noi del Customer Center venire a lavorare qui in questi ambienti nuovi, colorati, luminosi è stato un cambiamento epocale. Ormai non importa più che tempo fa, se piove, non voloso, perché tanto qui c'è sempre il sole e quindi si lavora in maniera più allegra e con più motivazione. Abbiamo ricevuto dei feedback molto positivi da parte dei dipendenti e a questo proposito hanno dimostrato e vero apprezzato in particolare le aree di progetto, le aree di collaborazione, dove oltre a lavorare possono socializzare e costruire la squadra insieme. Ogni persona che lavora qui al Customer Center ha a disposizione due piani interi in cui poter muoversi e lavorare, quindi non solo una scrivania o un ufficio. Abbiamo diversi tipi di ambienti, se ha le riunioni grandi, se ha le riunioni piccole, punti di conversazione informale e poi le persone possono sedersi dove vogliono, scegliere la scrivania e questa è una libertà negabile. Ci consente anche di organizzare le attività e quindi raggruppare le persone per team o per skill oppure creare la cosiddetta nursery della nuova attività in cui tutte le persone si riuniscono quando nasce qualcosa di nuovo e quindi è utile stare vicini tutti insieme. Fare mini riunioni di lavoro in un ambiente comunque diverso dalla solita sala riunioni, questo genera più spirito di squadra, più piacevolezza in quello che si fa e si dice. L'esperienza del Customer Center ha suscitato molto interesse in azienda e questo ci permette di andare a sviluppare altri spazi utilizzando gli stessi concetti, anzi magari migliorandoli.